Damiano dei Mane Skin, questa banda romana, è stato presente, pensate, da Pepsi Center WTC in Messico, ci troviamo in Centro America, e ha voluto ricordare proprio in loco l'amato nonno, il nonno che purtroppo si è spento e è morto pochi giorni fa di tempo, e pensate li ha dedicato la sua hit creata anche dai suoi componenti dei Mane Skin, ossia The Lone List, una canzone importante, una canzone determinante, che ha voluto, diciamo così, celebrare, o meglio ha voluto dedicare totalmente, ma interamente, proprio all'amato nonno, con cui, da come si legge qua su, c'era un rapporto davvero meraviglioso, o meglio, speciale. È orgoglioso Damiano David, The Mane Skin, a ricordare l'amato nonno che non c'è più, postando anche nelle diverse piattaforme social, la canzone dedicata proprio a costui. era un personaggio meraviglioso, era un personaggio straordinario, era un personaggio che aveva un grande bene, un gran bene al buon Damiano The Mane Skin. Bene, questo video non vuole leggere la prevasi di Damiano The Mane Skin, solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Complimenti al buon Damiano The Mane Skin, iscrivetevi se vi va, commentate, ciao a tutti.